Grazie, grazie mille, grazie, grazie mille, grazie mille, sono felice davvero di essere qua, ciao, 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 sono felice di essere qui, una giornata splendida, un'isola fantastica e tanta simpatia, bene, mi sembra bene, ci vediamo all'acca meno dopo Presidente, grazie grande figlio, 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 figlio Presidente, sono Croce Rosa, c'è una persona che le deve salutare Grazie davvero a tutti quanti per questa accoglienza straordinaria Ne avevo bisogno perché si lavora, si lavora, si fanno tante cose, poi non sempre queste cose si riescono a far conoscere, insomma lo sapete bene che c'è un proverbio che dice che non si può portare la croce e insieme cantare, ecco mi posso assicurare che il governo porta la croce, speriamo di avere anche il modo prima delle prossime elezioni nazionali di cantare e di far sapere quante cose abbiamo fatto, avremo fatto in questi nostri cinque anni di lavoro, per quanto vi riguarda siete fortunati perché Dio vi ha fatto nascere o comunque abitare o lavorare, una boccetta in davanti, quindi siete obligati ad essere sanci e pertanto a votare per chi cerca di essere saggio almeno quanto voi, tanti auguri a tutti Grazie Presidente, grazie Presidente, grazie Presidente, grazie Presidente, la televisione di Ischia, allora, beh, un posto bellissimo, una giornata splendida e un'accoglienza straordinaria Un'occasione anche elettorale? Anche, diciamo che è una giornata di vacanza e io spero che possa anche portare qualche frutto al nostro candidato che si impegnerà per risolvere l'isola e quindi spero di poterlo incontrare a Roma, a Roma, a Roma, grazie Presidente